Come prima cosa mi incuriosiva sapere se oltre ad una ovvia risonanza di questioni purtroppo virali e pandemici che il vostro film ha in questo momento, il progetto è nato anche con l'intento di raccontare una realtà che è quella complicata dell'Italia all'interno della quale spesso chi vale veramente trova degli ostacoli e delle difficoltà che non dovrebbe incontrare sul suo cammino? Sicuramente questo è un film che racconta l'Italia, è una storia emblematica italiana e quando mi è stato chiesto di lavorare su questa storia, la cosa che mi ha colpito, il motivo per cui ho trovato affascinante lavorare su questa storia è che si intrecciavano talmente tante questioni, era talmente tanto complessa che ho pensato è una sfida, è una sfida perché bisogna mettere insieme diverse cose che sono tutte importanti, quindi appunto la questione della scienza, il modo in cui le donne lavorano nel mondo scientifico, certe pastoie tutte italiane e quindi era veramente un rebus, ecco, e quindi la cosa che mi ha affascinato è stata proprio la difficoltà, cioè provare a vedere se riuscivamo con Francesca Archibugi con la quale appunto ho scritto, che aveva già affrontato un po' l'argomento, provare a dipanare una matassa complessa, senza però volere andare a conclusione, quindi senza volere necessariamente trovare quelle scamotage del finale dove tutto torna, tutto si chiude, tutto si pacifica perché non si può chiudere niente, in una storia del genere purtroppo nulla si chiude ed è connaturato al racconto il fatto che nulla si chiuda e tutto rimane aperto, quindi l'idea è che alla fine di questo film se ne esca con delle domande, tante domande, poche risposte, ma tante questioni aperte. Che posso dire? Credo che sia un affresco straordinario questo personaggio, dove non si affronta soltanto la questione del femminile, la questione della difficoltà del lavorare nel pubblico, la questione del diventare madre lavoratrice, la questione del doversi confrontare sempre col maschile, ci sono tre miliardi di fugi di cervelli, tre miliardi di argomenti, è un affresco veramente complesso, più che di Leonardo è un affresco di Bosch, dove ci sono mostri che fagocitano corpi, eccetera, è qualcosa di mostruoso, a volte io ho avuto difficoltà ad accettare che potesse davvero subire tutto questo, un solo essere umano e a farcela, però alla fine credo che, anche se non è un film consolatorio, perché non ci interessava minimamente quello, cioè ci interessava alla fine restituire una verità e una giustizia a quello che è accaduto davvero, quello che rimane deve essere comunque la motivazione, la spinta, soprattutto per i giovani, a crederci ancora, non a subire tutto questo, ma a credere a forzare le cose affinché possano cambiare. Dal punto di vista, come avete giustamente sottolineato voi, dello sguardo sull'universo femminile calato, in un contesto che invece non rende le cose facili, mi sembra che ci sia da un lato la volontà di raccontare gli ostacoli, dall'altro invece la possibilità di un mondo dove, soprattutto nella descrizione dei rapporti familiari, dove invece un ribaltamento di ruoli è assolutamente fisiologico, naturale e non crea... era una voglia di raccontare qualcosa di esemplare oppure era un semplicemente tenersi vicini a una vicenda reale. Ma ribaltamento di ruoli intendi il marito che è più accudente rispetto... è una domanda insidiosa, eh? Ma io credo questo. Non era mia intenzione. Io la interpreto in maniera un po' insidiosa, scusami se te lo dico, perché vedi siamo abituati a pensare che la donna debba stare... Cioè nel senso all'interno della tua domanda c'è un pensiero che è la risultante di una storia sociale e culturale dove la donna è in qualche maniera accudente, il padre, il lavoratore. Non voglio essere polemica, però in realtà è questo. Cioè al momento in cui invece noi presentiamo una donna che lavora con un padre che si occupa della figlia, notiamo la cosa, diversamente non l'avremmo notata. Quindi mi permetto di sottolinearla questa cosa. No, no, certamente. Il punto era... voleva essere ovviamente un punto, diciamo, una nota di merito dalla mia osservazione. Cioè non c'è, ecco... mi colpiva il fatto che non c'è una sorta di rivendicazione, no? Nel modo in cui avete raccontato questa realtà. No, diciamo che la nostra protagonista attraversa nell'età delle relazioni. Per esempio il primo compagno non regge la tripla velocità a cui va lei e quindi di fatto non ce la fa. Lei si mette in disco, lei soffre molto per questa cosa qui. Poi ha l'avventura di trovare accanto a sé un uomo che la sostiene e questo sostenerla chiaramente è qualcosa di importante nella sua vita. Perché per fortuna esiste anche questo. Cioè nel senso che adesso al di là del lato biografico reale, insomma, che per fortuna c'è nella vita di questa persona che ha ispirato il nostro film, esistono gli uomini che sostengono le proprie donne. Esistono gli uomini che sanno essere, come dire, accudenti nei confronti della prole. E quindi perché no? La cosa buffa è che quando poi il film è finito, l'ho guardato tutto così anche così un attimo, mi veniva da pensare che il rapporto con il padre, no? Che io ho voluto comunque fortemente raccontare in un certo modo, sembrava fosse quasi determinante quella che viene chiamata la sindrome dell'Eddie Oscar, no? Cioè questa cosa che comunque cerchi di essere il maschio. In realtà lei semplicemente usa il cervello che ha, che è veloce. E questa velocità del cervello spaventa a volte. Qual è stato per lei il gancio emotivo per attaccare questo personaggio? La verità e l'onestà. Lei crede veramente e fortemente in quello che fa e lo porta avanti senza crearsi troppo i retro pensieri o senza pensare troppo alle conseguenze. C'è un passaggio del film che io amo moltissimo, quando lei decide di pubblicare su Open Access la sequenza che può aiutare i nigeriani a debellare la viaria. L'ho trovato un atto rivoluzionario fortissimo, non ci ha pensato più di tanto, ha pensato a quello che potesse essere appunto la soluzione per dei popoli che vengono troppo spesso vessati e non considerati perché economicamente più deboli. Mi sarebbe piaciuto, come Anna, poter fare qualcosa di così straordinariamente rivoluzionario. L'ho trovato veramente un passaggio importantissimo e per questo devo dire che un po' di invidia per lei l'ho provata perché deve essere stato veramente importante quel momento per lei nella sua vita, pensare agli altri. È una cosa che facciamo sempre meno. È per il gruppo di ricerca. È stato molto bello quando preparavamo il film, quando facevo delle domande, eccetera. A un certo punto ho parlato con il collaboratore di Ilaria, Giovanni Cattoli, una persona veramente speciale e che ringrazio di cuore per la generosità con cui ha testimoniato le cose, le avventure dei lavoratori di ricerca. E lui mi ha detto, quando io ho chiesto ma cosa avete pensato quando c'è stata la proposta di caricare in open source il genoma del virus nigeriano, lui mi ha detto che era di buonsenso. Cioè il buonsenso, quella cosa lì è rivoluzionaria a volte. Un'ultimissima curiosità, mi chiedevo come mai aveste deciso di mettere una sorta di distanza a partire dal nome del personaggio, il cartellone alle nostre spalle ci dice che è liberamente ispirato a... Come mai questa distanza rispetto invece poi a una cadenza di fatti appunto che sono strettamente autobiografici alla fine dei conti? Ma il progetto è nato così, nel senso non si è mai messa in discussione l'idea di mettere il nome vero, cose del genere. Nel senso io ho letto la primissima versione della sceneggiatura scritta da Francesca Archibuggi, sulla quale poi abbiamo lavorato insieme, dove c'era già Irene. Devo dire che mi è stato subito bene così, perché penso che Irene sia tante donne insieme. Non è soltanto Ilaria che ha ispirato. Quando si fanno i film ispirati alle biografie, alle storie vere, c'è sempre un trasferimento in qualcosa d'altro e questo trasferimento è poi il valore aggiunto.